Andreas, partiamo da te, da Land, di chi si occupa, e poi raccontiamo un progetto ad Archisurfaces. Più che volentieri, sono Andreas Kipa, nasco giardiniere, paesagista, architetto paesagista tedesco e architetto urbanista italiano. Questo è in breve il mio curriculum di studi. Oggi guido una società che ho fondato più di 30 anni fa e appunto si chiama Land. Tutto inizia con il landscape e finisce con il development. In mezzo c'è quel tema di cui parliamo oggi, l'architettura, natura, cultura e natura. Quel campo energetico che ci ha messo qui oggi insieme. Senti, il progetto che racconti, di che si tratta? Ma vorrei quasi raccontare in poche parole l'ultima fatica di Piazza Loreto, visto che è una piazza simbolica, non solo in questi tempi. È una piazza molto importante, che poi non è una piazza, ma è quel nuovo paradigma che personalmente lo vedo nel termine della rottura. Rompere, rompere le superficie, let's break it up, vuol dire noi oggi come oggi dobbiamo entrare in profondità per creare più superficie nello spazio urbano che diventa la nostra open community delle future generazioni. Io abito lì per passare a piedi o in bicicletta, è sempre un dramma, conosco il progetto di Andrea Boschetti e di altri, con te, con altri. Ed effettivamente uno dei problemi lì era capire come far passare più o meno le stesse macchine dando superficie alla piazza. Certo, un'altra cosa che mi ha sorpreso in quella piazza, intanto, è vedere queste canne di bambù, adesso altissime, che nascondono la vista, anche il paesaggio, il verde è diventato, da tempo per fortuna, un vero e proprio strumento di progetto. Vorrei aggiungere che il verde è diventato un vero e proprio progetto, un tema davvero di primaria importanza, ma soprattutto quello che sta dietro quel concetto del verde, che è quello che noi chiamiamo natura. Una natura che trova la sua via propria nei centri urbani, una natura che si trova la via propria nella nostra vita, perché anche noi facciamo parte di questo ciclo della natura, è una natura che diventa quasi base della nuova narrazione di tanti progetti. Piazza Loreto parte da questa premessa, fa sì che la natura fosse capace di andare in profondità, di contaminare i nuovi edifici e di contornare lo spazio pubblico che connette con il resto della città. Chi non sa di paesi, io sono nato sul Lago Maggiore, lo dico sempre, giardini bellissimi, in contatto col verde, però chi non sa questo ha delle visioni, no? Il giardino romantico, la natura che si impossessa, oppure quello un po' più illuminista, il giardino all'italiana, il giardino all'inglese. A che punto siamo arrivati oggi? Perché secondo me anche da parte delle persone non c'è una grandissima cultura rispetto al verde. Penso che sia molto molto importante ricordare che la nostra intrinseca lontananza dalla natura ci ha fatto nascere i giardini. Siamo lontani, allora facciamo nascere i giardini. Mano a mano questo, a partire dai tempi passati, il Cinquecento lo riprende, il giardino, la natura diventano sinonimo per una nuova libertà. Qui sì, tu che entri sentiti libero, iscrizione alla villa a Firenze nel Cinquecento. Allora questo tema diventa importante che noi lo portiamo nella modernità e lo cominciamo lentamente a superare nella dopomodernità, perché a un certo punto noi vogliamo riavvicinarci alla natura anche al di fuori del giardino. Ci siamo costruiti un mondo in cui tutto sembrava a posto dentro nel giardino e fuori nella città. Oggi la nostra stessa città vuole diventare giardino e noi lo chiamiamo sempre paesaggio urbano, dove il tema della cultura e della natura finalmente tornino a vivere insieme. Il tuo lavoro è molto politico perché si rivolge alle persone, è aperto a tutti, se non si tratta di un giardino privato, ma si tende ad aprire anche in alcune ore del giorno giardini privati, ultimamente per fortuna dico io. La domanda però riguarda il materiale del tuo progetto. Siccome parlo spesso ultimamente con paesaggisti, con landscape architect, eccetera, si parla anche di nuove essenze utilizzate, al di là del cambiamento climatico, insomma, però di nuove essenze c'è un limite, una correttezza secondo te, senza usare necessariamente il carpino o specie autoctone, dove non si dovrebbe andare nell'utilizzo proprio di questi codici? Allora, noi proprio a Milano l'abbiamo avuto e l'abbiamo ancora, le banane in piazza Duoma, e ringraziamo sempre per questo, perché è un sinonimo del cambiamento climatico, non è solo una ironia del destino, ma è sinonimo di questo cambiamento climatico che ci becca in pieno, ed è a questo punto che i limiti stanno nella natura stessa. La dinamicità della natura produce continuamente giorno e notte, perché la natura non riposa mai, ricordo sempre Goethe che le scrisse così bene, la natura non riposa mai e produce giorno e notte, non dorme mai, e in questo suo produrre si riproduce anche attraverso nuove specie, i cosiddetti neofiti nelle nostre città, non solo sul brownfield, non solo sull'area industriale dismesse, ma anche sui tetti. Una domanda per quanto riguarda i materiali che si associano a questo progetto del verde, uno pensa al corten, alla ghiaia, al legno, poi pensa ovviamente al gress e tanti altri materiali, la pietra, anche lì secondo te c'è un nuovo vocabolario, ci sono dei materiali corretti o in uso al momento che vanno più di altri o che è necessario mettere a sistema, per esempio in una piazza? Ecco, lì riprendo un attimo il tema della tipologia delle nostre città. Noi in questo momento viviamo un periodo straordinario di cambiamenti, di nuove sfide, ma in realtà non è più un momento in cui ci dobbiamo inventare delle cose nuove, piuttosto di mettere insieme in maniera diversa quello che abbiamo già. Ecco quello che succede nelle nostre città, nelle nostre piazze, nelle nostre sistemazioni, una ricerca sull'accostamento, una ricerca sulla rielaborazione di quanto c'è già, quanto ne possiamo permetterci con materiali che esistono già. Noi abbiamo sviluppato questo metodo della passeggiata urbana di vedere il materiale, e penso come è nata Piazza Gaiolenti, conosciuta tutta Milano e oltre, è nata proprio dalla passeggiata continua da Piazza del Duomo fino a Corso Como e oltre. Perciò oggi la contaminazione tra materiali diversi, per lo più con un materiale vegetale, vegetale nel interstizi, diventa questo tema del futuro perché viviamo un forte periodo di bisogno da un lato della tradizione, dall'altro lato della innovazione verso un futuro sempre più sostenibile. Per chiudere questa breve chiacchierata, se tu dovessi pensare a una parola chiave, a una keyword oppure a una locuzione che vi contraddistingue in questo momento, o anche un tormentone, sai, magari al telefono esce sempre quella parola che è un po' un pay off? In realtà in questo momento escono due parole, rottura e diversità, rottura e diversità, a quale noi dobbiamo associare adesso una terza parola, quella della radicalità. Cioè non è più un momento in cui possiamo essere eccessivamente moderati, è un momento in cui dobbiamo prendere posizione, è un momento in cui siamo chiamati di avere una posizione propria, anche radicale, perché le sfide del futuro richiedono a noi radicalità, diversità, diversità in senso della biodiversità, della capacità di ammettere, di creare le condizioni della diversità e infine questa rottura perché passare da uno stato non liquido a uno stato liquido richiede comunque un atto forte di rottura. Grazie Andreas. Grazie a voi. Grazie a voi.